Io voglio assolutamente combattere questo verde perché sarà pieno zeppo di smeraldi Vieni qua dammeli tutti a me, dali tutti all'imperatore Kent Dove pensi di andare? Dove pensi di scappare? Ehi! Dove stai andando? Ma che fa? Ma non si è accorto che sono qua? Sono... Non capisco Non capisco ragazzi e nel frattempo io posso andare a casa sua tranquillo tranquillo Con la bellezza di 12 smeraldi Mio Dio! Mi ha dato un bottino veramente che non mi aspettavo Non mi sarei mai aspettato un bottino del genere Ciao siamo amichetti, no dubito che noi siamo amichetti Ora tu sei morto Ci abbiamo la bellezza, oh mio Dio! No 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 no, a lui non lo possiamo lasciare venire qua e lasciarci uccidere Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video delle Bedwars Oggi cercherò di fare una sfida impossibile Anzi non è vero, non è una sfida impossibile perché lo faccio sempre In ogni partita cercheremo di giocare senza il letto Quindi non mi... non lo proteggerò assolutamente E non so, c'è gente che fa questa sfida Io in ogni partita lo faccio ragazzi Quindi non vedo dove sia la differenza sinceramente Le vinco tutte quante senza letto, senza alcun problema E molti di voi mi hanno detto di portare, di tornare a portare più Bedwars Ovvero due a settimana come facevo un tempo E non lo so, se le volete ragazzi Se volete due Bedwars a settimana proprio come tanto tempo fa Allora lasciate tanti bei mi piace a questo video Se questo video dovesse arrivare alla bellezza di 9568 mi piace Allora tornerò a fare due Bedwars a settimana Semplicemente volevo portare più contenuti che piacessero a tutti quanti Ovviamente, quindi portando più contenuti ci saremmo divertiti di più tutti Ovviamente le Bedwars non le interrompo ragazzi Le avrei continuato a portare in ogni caso Devo fare l'annoletto challenge Quindi rompimi il letto Bene, perfetto E adesso andiamo a vincere la partita senza utilizzare completamente il letto Come vedete non ho fatto nessuna kill quando ancora avevo il letto Non sono andato contro nessuno Ho aspettato che lui me lo rompesse E adesso quindi è una partita Diciamo più o meno Oh, uh, no, 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 no Vuole venire di nuovo? Cioè non ha ben capito che l'ho ucciso restando full vita Credo che non l'abbia ben capito Ciao, mi dispiace Bianchino Ma ora muori di nuovo Sì, hai perso Eh, lo so Ma è questo quello che ti becchi quando cerchi di andare contro un imperatore Non puoi aspettarti altrimenti Allora, anche perché altrimenti non li puoi avere Ne puoi avere uno soltanto Dio ti ha dato un solo mento Vuole continuare a venire? Probabilmente sì Allora io gli faccio una bella barriera Uh, oh mio Dio Mi ha preso in contropiede questa volta Oh, potrebbe farmi del male Potrebbe riuscire a uccidermi Mi ha lasciato un cuore E credo sia arrivato il momento ragazzi Di prenderci un bellissimo heal pool a casa E anche una bella gapple Perché questo ora cercherà di venirmi contro E ora vedete ragazzi l'heal pool quanto è fondamentale Perché io ora c'ho regeneration Più una bella gapple E torno full vita Senza alcun problema Lui ora cercherà di venirmi incontro E io sono praticamente full Perché c'ho un casino di regeneration Oh sì, ancora qua sei E io continuo a farmi le uccisioni Ma io ti uccido senza problemi Molto molto volentieri Visto che adesso ci abbiamo un dominio assurdo Anche se non ce l'abbiamo purtroppo Nell'isola degli smeraldi Nel frattempo come vedete C'è il rosino che sta cercando di andare Nell'isola del bianco Gli vuole fare del male Gli vuole far capire Che non può combattere un imperatore Tutte queste volte E soprattutto ora glielo faccio capire anche io Perché il suo letto è ancora qua in vita E ora glielo andiamo a distruggere Bianco Tu volevi rompere il mio letto Io te l'ho lasciato rompere Perché ovviamente sto facendo una sfida È una challenge Quindi è giusto che ti lascia rompere il mio letto E adesso però sei morto Mi dispiace Eliminato Bene 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 Visto che ci abbiamo tanta gente vicina Direi di prendermi delle gapple Tra l'altro lui mamma mia Quanti materiali aveva Se soltanto si fosse preso Tutti questi materiali qua sotto Avrebbe avuto tantissimo oro Prendiamoci una bella armatura Ottimo Ora siamo messi molto bene E ci abbiamo anche un ponte collegato Nel Dal nostro vicino Ovvero dal rosino Molto bene ragazzi Perché in questo modo Ci posso arrivare senza troppi problemi Il verde d'altro canto Mi sembra fin troppo agguerrito E fin troppo curiosone Perché si sta prendendo Tutti quanti gli smeraldi E questo non va bene Gli smeraldi sono dell'imperatore E bisogna condividerli con lui Dico bene O dico giusto ragazzi Io penso Dove stavo andando Ho sbagliato strada Allora Ci abbiamo tre diamanti Che ci faccio con tre diamanti Mi ci prendo L'increase forge Ok Così ci possiamo prendere Molta più roba E direi che ci possiamo prendere Anche allora Un'altra gapple Tanto per ragazzi Perché ricordate che non abbiamo più un letto E quindi la vita è fondamentale Ci serve avere tantissima vita Potrei tranquillamente andare a casa Del rosa Perché stanno combattendo i due Ma no 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 Ne approfitto invece per fare Per continuare il mio ponte verso il centro Perché il verde non è ancora Arriva Anzi no Il verde è lontanissimo Posso andare al centro E combatterlo addirittura Uh Ed è quello che voglio ragazzi Io voglio assolutamente combattere questo verde Perché sarà pieno Zeppo di smeraldi Vieni qua Dammeli tutti a me Dalli tutti all'imperatore Dove pensi di andare Dove pensi di scappare Ehi Dove stai andando Ma che fa Ma non si è accorto che sono qua Sono Non capisco Non capisco ragazzi E nel frattempo io posso andare a casa sua Tranquillo tranquillo Con la bellezza di 12 smeraldi Mio dio Mi ha dato un bottino veramente che non mi aspettavo Non mi sarei mai aspettato un bottino del genere Ciao Siamo amichetti No dubito che noi siamo amichetti Ora tu sei morto Ci abbiamo la bellezza Oh mio dio No 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 A lui non lo possiamo lasciare venire qua E lasciarci uccidere Devi morire Hai capito blu Ci prendiamo ora Con questi 12 smeraldi Una bellissima corazza in diamante Ci prendiamo anche una bellissima spada in diamante ovviamente E sapete cosa? Sì Oggi lo voglio fare ragazzi Ci prendiamo anche il bastone con knockback 1 Perché questo è 1 O 2 Ok è 1 Knockback 1 ragazzi è veramente potentissimo Ci abbiamo anche 9 diamanti 9 diamanti Che mi serviranno per una sharpness E per un bel protection 1 Ottimo Ragazzi io direi che siamo messi veramente fin troppo bene Nonostante Nonostante stiamo giocando completamente Senza che ho fatto Non lo so Nonostante stiamo giocando completamente Senza letto Perché ricordatevi Stiamo facendo una sfida Ma avete visto la differenza voi per caso Tra quando gioco normalmente E quando gioco senza letto Con questa sfida Io sinceramente non l'ho vista la differenza Perché mi sembra di giocare allo stesso identico modo E sto distruggendo tutti quanti Esattamente allo stesso identico modo Ora Abbiamo veramente tanta roba Ma quanti siamo rimasti in vita C'è ancora qualcuno in vita C'abbiamo l'acqua e c'abbiamo il grigio L'acqua sono io Il grigio invece chi è Non lo so Dobbiamo andarlo a stanare Dobbiamo trovare il nostro amichetto grigio Che credo sia là sotto A giudicare dal colore No E' quella l'isola del grigio Ok quindi dove è il grigietto Dove si sta nascondendo Sarà mica al centro Probabilmente è al centro Ora il problema è che Rischieremo veramente tantissimo Se io gli vado contro Se io gli vado contro Rischio la vita da un momento all'altro Però c'è un bellissimo ponte Che è stato Ha scritto ciao C'è un bellissimo ponte Che è stato fatto dal Dal rosa Quindi io posso andare a casa del rosa Da casa mia E mi ha scritto Dove stai andando Dove sto andando Non lo so dove sto andando Sincer Tu dove stai andando Vuoi essere amichetto mio per caso Io non posso essere amichetto tuo Perché stiamo giocando alle badwars A 9 stelle tra l'altro Quindi questo qua Deve essere abbastanza forte Deve essere discretamente forte E ricordatevi ragazzi Che non abbiamo il letto E io sono fin troppo aggressivo Se lui sta lì a camperare Probabilmente riesce a battermi Perché adesso potrebbe avere Tranquillamente un arco Se ha un arco Io non accetto di perdere questa partita Non posso di certo perdere Contro uno con l'arco Con un fifone camperino camperone Allora 26 Me lo posso prendere anche Ehm Si è ucciso Io ho fatto la bellezza di 9 uccisioni Ora Bisogna capire una cosa Dobbiamo analizzare Una cosa Uno Si è suicidato Perché ovviamente ha capito Di essere in finale Contro l'imperatore E quindi ha pensato Non ho speranze È solo tempo perso Andiamo a fare un'altra partita Due Non gli funzionava Lo sprint key Proprio come aveva detto lui In chat Potrebbe essere anche una scusa Non lo sappiamo ragazzi Potrebbe essere una scusa Tre Mi conosce Mi ha rispettato E ho detto No È Kendal Devo lasciarlo vincere per il video Così posso operire anche io nel video Non lo so ragazzi Dovete scegliere voi Quale tra queste tre Può essere quella più plausibile Secondo me è la prima Ha avuto paura dell'imperatore E non voleva più combattere Ragazzi Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Se volete rivedere Due bedwars a settimana Quindi se riusciamo a superare I 9000 mi piace Tornerò a portare Due bedwars a settimana Lasciate un mi piace Per questa sfida epica Anche se in realtà Non è stata una sfida Perché io la faccio sempre Io in ogni partita Gioco senza letto Dal vostro Kendal è tutto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Seguitemi su Instagram Il link lo troverete qua sotto In descrizione Da Kendal è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao